cari amici di autodigest oggi la vostra attorella salvucci e alle prese con una porsche mitica e beh l'avrete riconosciuta la 550 rs e gli appassionati se ne fanno costruire delle repliche e autodigest l'ha approvata per voi la versione che proviamo è derivata volkswagen dalla beck america e preparata dalla bellini motorsport di fasano grazie al telaio tubolare la creazione in vetro resina questa vettura è molto leggera e anche se il motore volkswagen 1.6 ha soltanto 70 80 cavalli pur preparato si mostra molto agile divertente scattante e su questa pista di kart di fasano in provincia di brindisi molto divertente da guidare davvero certo va tenuta in strada perché le sospensioni sono quelle che sono andrebbero tarate in maniera molto sportiva comunque vi assicuriamo che la vettura è molto divertente pensando che costa a partire da 30 mila euro non è niente male allora sull'abac ufficiale c'è alla guida per me grazie a tutti